Adesso diamo la parola a Massimo degli operai della Vagolli che da 50, anzi 60 ormai, quanti? 117 giorni ormai sono sulla torre e stanno lottando, è l'altra faccia della lotta del popolo notab. Si spregano miliardi per fare un buco per distruggere la valle e non si trovano i soldi per collegare con i treni nord e sud del paese. 800 lavoratori vengono licenziati, loro sono qui con noi, forza Massimo. Grazie dell'ospitalità, sono uno degli 800 lavoratori che da 117 giorni siamo sotto una torre dell'indifferenza più totale, siamo degli invisibili, siamo dei ferrovieri di serie B, tant'è che dovremmo chiedere la residenza fuori dalla stazione, perché non diamo fastidio a nessuno, una lotta civile, pacifica, non violenta, ma così civile che non se ne accorge nessuno. Solidarietà dalla gente, dal popolo, dai partiti, da certi partiti tantissimi, ma una parola, un segno, qualcosa che potesse far scendere i ragazzi della torre, per far finire il presidio non è stata fatta, hanno tolto un servizio pubblico, un servizio pubblico pagato con i soldi dei cittadini, un servizio oltretutto utile, indispensabile, dei treni notturni che univano l'Italia, che andavano dal sud al nord, che servivano alla gente comune. Ecco, questa è la politica del grande capitale, la politica del grande capitale che si pensa solo alle banche e allo spread, ma il lavoro per loro non esiste, stanno facendo dei grandi casini per poter licenziare meglio, ma non per creare occupazione. Noi ne siamo l'esempio, 800 persone, un lavoro che c'era, dei treni che funzionavano, ecco, li hanno tagliati, ma noi siamo più testardi di loro, abbiamo fatto 117 giorni, ne faremo 200, ne faremo 250, finché alla fine non avremo quello per cui stiamo lottando, un tavolo di trattativa nazionale, perché il problema è nazionale, i treni notturni interessano tutta l'Italia, non varie regioni solo e si cerca di dividere i lavoratori facendo degli accordini che sono aria fritta, come quello che hanno fatto la regione Lombardia, che ringraziamo la regione Lombardia per quello che ha fatto, ma è troppo poco, noi continueremo la lotta finché l'Italia non sarà di nuovo unita, quello che non ha fatto una certa politica è riuscita a farlo, Moretti e Passera, hanno diviso l'Italia in due, i treni notturni sono un bene comune, sono un bene di tutti noi, sosteneteci in questa lotta, non lasciateci soli, grazie! A molti ragazzi! Allora adesso la parola ai media fatti dell'USB! Siamo qui oggi in questa enorme manifestazione a dimostrare a Monti e a Napolitano che non è vero che il paese è con loro, al contrario di quello che va dicendo in giro questo tecnocrate di Condam Sachs e della Borsa di Milano e della Bocconi. Siamo qui a far vedere che c'è un popolo che respinge questo odio di classe, perché di odio di classe si tratta da parte del capitale che ormai non sa più produrre niente di progressivo, questo governo che in nome della livelle politica dei nostri partiti ha appoggiato da Napolitano, che ha stracciato ogni norma democratica, non esiste più la democrazia in questo paese, né a livello politico né a livello sindacale, ce lo sappiamo da anni, in nome appunto di questa investitura sta imponendo una lotta di classe dall'alto, che ha portato con un voto difficilice della Camera a abolire il contratto nazionale dei ferrovieri ad esempio. Ieri il direttore generale delle ferrovie ha consegnato ai lavoratori una lettera in cui dice guardate che adesso c'è Montezemolo, una giornata di lavoro di un macchinista dell'azienda di Montezemolo costa 27 euro, voi costate 40 euro, allora vi dico subito che se non aumentiamo la produttività e se non ci diamo una regolata andiamo a carte 48 e il compagno dei vagon lì di prima lo ha detto. Anni fa sarebbero sessi sopero immediatamente tutti per l'appolizione di un contratto nazionale. Oggi siamo noi a dire che non ci stiamo, ci sono 36 contratti da rinnovare, ci sono oggi sui giornali, abbiamo letto che le dichiarazioni dei redditi dei padroni dichiarano meno dei nostri lavoratori, di noi lavoratori e il costo della vita aumenta. Non ci incartano, non ci incartano le false operazioni in vetrina con cui, vergogna, vergogna, con cui Monti va a Cortina o a Positano a fare la bella figura di fare la multa a qualche subo, a qualche proprietario di yacht. Noi il debito non lo vogliamo pagare, è un debito che è stato costruito per dare i soldi alla Fiat, per dare i soldi all'Alfa Romeo, per dare i soldi ai tanti padroni che hanno devastato il nostro mezzogiorno, che stanno devastando la Valzusa, che vogliono devastare tanti altri territori del nostro paese. Noi siamo qui oggi a dire che non ci fermeremo col comitato non debito, col comitato promotore di questa manifestazione, con la mia organizzazione sindacale, siamo qui perché oggi ho una giornata magnifica, ma non deve rimanere isolato, dobbiamo continuare a lottare, in ogni città si devono formare i comitati no debito, in ogni città il sindacalismo di base va sostenuto contro la truffa di CGL, Cisle e Will. Adesso si è scoperto che la capuzza ha capito che cos'è la flessibilità in uscita. Ebbene due giorni fa a Firenze è stato licenziato il primo auto ferro trambiere, con una lettera che dice che siccome c'è un problema economico, prima ancora che l'articolo 18 venga approvato, costrui è stato licenziato per ragioni economiche, quando quella stessa ditta si prepara a concorrere per l'affalto di tutto il trasporto pubblico locale in Toscana. E allora dobbiamo essere uniti, dobbiamo essere compatti, dobbiamo dimostrare sempre e ovunque la nostra voglia di lottare, perché siamo donne, siamo uomini, siamo precari, siamo giovani, siamo gente in carne e ossa. E questo è il tecnocrate Monti, è l'ancora più gelida. Villo, 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 Villo. Lo devono sapere, altro che le lacrimucce, le lacrime le tiriamo fuori noi. Ogni giorno, quando arrivando al 14 del mese, lo stipendio è già finito, avanza troppo mese per il nostro salario. E allora qui, e da oggi, parte la riscossa, la riscossa di tutti noi, compagni, lavoratori, giovani, studenti, oggi qua in piazza sono venuti da tutta Italia gli occupanti delle case di Roma, di Napoli, di Bologna, di Milano, tutti quanti insieme, i giovani precari e tanti altri lavoratori, sia che siano in crisi che no, per dire che non ci stiamo e non ci staremo. Monti, perché devi andare?